Questa sera ho l'onore di presentarvi la dottoressa Claudia Permeggiani che è stata anche una mia lieve, una carissima amica, una persona veramente intelligente e preparata, con lei vorrei parlare per completare, almeno questa è la prima fase del discorso sulla sessualità femminile, della sessualità delle adolescenti. Ho voluto scendere questo discorso tra la dottoressa Permeggiani e poi il dottor Nanni che sarà nostro credito ospite in un altro momento, proprio perché ritengo che la sessualità delle adolescenti e o degli adolescenti a giorno d'oggi abbia acquisito delle connotazioni molto particolari che meritano un occhio di attenzione, non so se è d'accordo con me. Ma in realtà ci sono alcuni aspetti dell'adolescenza femminile attuale che sono abbastanza invariati, nel senso che riguarda soprattutto i tabù, quindi argomenti come la verginità, come l'omosessualità, come la masturbazione. Ancora sono argomenti che le ragazze adolescenti fanno fatica ad affrontare, nonostante in realtà l'adolescenza sia un periodo di sperimentazione eccezionale, per cui si ritrovano a ricoprire dei ruoli a volte anche in maniera molto inaspettata. Mi viene in mente, per fare un esempio, quando si forma la coppia della migliore amica che ha in un certo senso uno spunto di tipo omosessuale. E quindi queste ragazze si ritrovano in alcuni momenti assolutamente stupite di fronte a queste attrazioni di tipo omosessuale che poi col tempo si risolvono, a volte, a volte no, ma molto spesso si risolvono e che quindi, come dire, danno loro questo bagaglio di esperienza che poi credo faccia sì che poi tutta la sessualità femminile prenda quell'impronta più romantica che non la sessualità maschile. Ecco, per quanto riguarda la verginità, siccome ad oggi a livello clinico, quando lavoriamo con delle adolescenti sentiamo che cercano di togliersi l'imbarazzo abbastanza velocemente, da un punto di vista fisico e psicologico, come lo vede? Che cosa ci può dire di interessante? Senza voler generalizzare, perché generalizzare è sempre sbagliato, però sta accadendo da forse parecchi anni a questa parte, non riguarda le adolescenti di questi ultimi dieci anni, che che la verginità assume un aspetto scomodo. Bisogna risolvere questo problema il più in fretta possibile, soprattutto per essere accettate nel gruppo, che è un elemento fondamentale per l'età di cui stiamo trattando. Per cui avvengono purtroppo delle prime esperienze in queste ragazze che sono esperienze estremamente sgradevoli, perché non mentalizzate, perché non vissute dal punto di vista emozionale, ma esclusivamente agite. Agite a uno scopo, proprio per perdere la verginità e poter dire io non sono più vergine. Per cui a volte, e non così tanto raramente, lasciando traumatizzati anche i ragazzi, che si ritrovano ad essere utilizzati esclusivamente per quello scopo, senza avere una relazione in atto con queste persone. Cosa succede? Succede di sentire delle frasi del tipo me lo sono fatto. Non si fa una persona, di solito si fa un oggetto. E questo nelle ragazze accade, accade già da parecchi anni. Viene quasi in mente l'idea che sia una sorta di rito di passaggio. Sì, una sorta di rito di passaggio che però ha poi delle conseguenze molto gravi, perché le conseguenze sono quelle poi di credere che il fare l'amore, che la sessualità sia quello. Si ha quell'agito lì, quindi assolutamente privo di piacere e il trasformare invece questa sessualità in una sessualità sana diventa un compito veramente difficile. Ma da parte dei genitori non c'è nessun aiuto, nessuna comunicazione? Ancora attualmente i genitori delegano moltissimo alle istituzioni educative il ruolo di insegnare la sessualità. Sarebbe una cosa già splendida se i genitori, in quanto coppia, dessero, come dire, l'esempio comportamentale di relazione. Già sarebbe una grande cosa che questi ragazzi potessero vedere una coppia in relazione sana. Sarebbe un buon punto di partenza. Dopodiché andiamo da un estremo all'altro, cioè andiamo da genitori che hanno paura ad affrontare il problema della sessualità, perché hanno paura che questo poi attivi chissà quali curiosità nella ragazza che invece deve stare vergine il più a lungo possibile. Dall'altra parte abbiamo genitori e mi dispiace dirlo, ma soprattutto mamme, che invece raccontano la propria sessualità alla figlia, come la racconterebbero ad un'amica, per cui ho fatto questo, ho fatto quello soprattutto se sono madri separate, per cui single, insomma, e questo devo dire che è assolutamente nocivo. C'è ancora una grande falla nella nostra società. Questi adolescenti sono ancora molto ignoranti rispetto alla sessualità, rispetto alla prevenzione delle malattie, rispetto a tutto quello che ruota attorno alla sessualità. Ma anche un'educazione. Sì, assolutamente. E poi se abbiamo delle madri che trattano le figlie, non come figlie, ma come amiche, raccontano la loro sessualità, fanno soltanto unicamente dei danni, non aiutano la maturazione sessualità. Io ricordo di una paziente, una pazientina sedicenne, che mi disse, ma io tanto l'orgasmo non lo raggiungerò mai. Lei fantasticava ancora all'epoca, non aveva ancora avuto rapporti sessuali. Come mai tu non lo raggiungerai mai? Perché mia madre non lo raggiunge mai, per cui no. Quindi c'è anche un condizionamento negativo. Assolutamente, sì. E i maschi, in questi rapporti, in questo di uso, come si trovano? Come lo vivono? Spiazzati. Spiazzati perché sono sempre stati abituati culturalmente a dirigere il gioco, a conquistare e a scegliere. Adesso sta succedendo anche il contrario. Quindi vengono conquistati, vengono scelti, il gioco lo dirigono le ragazze e poi arrivederci e grazie. E questo per la loro autostima è difficile. è difficile, sì. Adesso è difficile. E per quanto concerne, dottoressa Permeggiani, quella brutta abitudine di cui siamo venuti a conoscenza che nelle scuole superiori le ragazze, gli adolescenti tendono a dare delle prestazioni di un dato tipo, i maschietti in cambio di una ricarica telefonica, di qualche solderello, eccetera. Cosa ritiene? Questo purtroppo fa parte di quella categoria di agiti di cui l'adolescenza è pervasa e fa parte anche di quel narcisismo dilagante che stiamo vedendo in questi ultimi anni. Tutto questo, vendersi, svendersi, cercare di guadagnare qualcosa, trattare così male il proprio corpo, tutto questo, il mio corpo che cambia, io che devo diventare grande, io che devo fare di questo corpo e della mia mente una cosa unica. In questo momento invece è tutto confuso, è tutto separato, e quindi il mio corpo va, lo vendo, lo do, non mi appartiene in questo momento, mi serve per fare questa cosa. Per cui delle relazioni assolutamente scisse tra la mente e il corpo, è ancora tutto da integrare in un'identità unica che è anche un'identità sessuale. collocabile in una fase di sviluppo o con dei risvolti che possono essere idiosincratici anche nell'età adulta, secondo lei? Ma questi comportamenti nell'80% dei casi sono comportamenti che poi non lasciano strascici, psicopatologie o cose, però bisogna anche valutare in quale tipo di personalità poi si vanno ad instaurare. È una cosa che comunque prima dei vent'anni è difficilissimo da diagnosticare in quanto patologia, a meno che non si trovi di fronte a delle compulsioni veramente importanti e invasive. La diagnosi in adolescenza è una cosa molto complicata. Sì, perché l'adolescente è costantemente in sviluppo e costantemente in cambiamento, quindi è difficile dare delle definizioni diagnostiche prima che si è raggiunto uno sviluppo completo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico. Quindi bisogna dare comunque sempre la possibilità di un'evoluzione continuo. Assolutamente. E per quanto riguarda la contraccezione e la maternità inopinata delle adolescenti, cosa ci diciamo? Che è un disastro, è un disastro un po' per l'onnipotenza che caratterizza l'adolescenza, per cui io sono in grado anche di gestire il fatto che a me questa cosa non capiterà mai, per cui non resterò mai incinta, per cui non mi ammalerò mai, per cui a me questo non succederà. E quindi vengono trattati in maniera molto leggera tutte quelle che sono le precauzioni che si dovrebbero adottare. A questo aggiungo comunque anche quello che dicevo all'inizio, le scarse conoscenze. Era scarsissima anche l'educazione data dalle madri, da quello che ho invinto prima. Assolutamente. E se poi a me questo succede, come lo vivono? Io non posso ammalare l'incinta, non mi posso ammalare, a me questo non può succedere. Se invece accade? È una tragedia. Per fortuna ci sono alcune realtà come i consultori, come gli psicologi scolastici, insomma, alcune realtà che queste ragazze utilizzano e quindi poi prendono delle strade in cui vengono sostenute, vengono accompagnate nell'eventuale decisione di interrompere una gravidanza o invece di tenere i bambini. Tra l'altro l'interruzione di una gravidanza è comunque un fatto traumatico. Sì, assolutamente e lo sarà per sempre. E quindi la madre che comunque porta la figlia da ginecologo per prendere la pillola, lei come la vede? La vedo bene nel senso che dovrebbe essere prima una condivisione rispetto al significato del prendere la pillola. Allora, prendo la pillola perché ho dei rapporti sessuali, ma con chi ho dei rapporti sessuali? Cioè prendo la pillola perché ho una relazione con un ragazzino e voglio… oppure tu prendi la pillola perché così puoi fare qualsiasi cosa e stiamo tutti tranquilli. C'è una grande differenza in dire ti faccio andare via protetta, che poi protegge dalle gravidanze ma non da altre cose e quindi dopo io sto tranquilla, tu fai pure quello che ti pare. Sono due situazioni completamente diverse. C'è poi da dire che il giorno d'oggi le relazioni salde tra ragazzi e ragazze sono molto più fluttuanti di un tempo e quelle che si prolungano troppo nel tempo finiscono poi per diventare anche poi una iose monotone e quindi c'è bisogno di cambiamenti eccetera. Poi mi sembra che la fedeltà sia un po' anche venuta a assumere un ruolo diverso tra gli adolescenti, me lo conferma, o giungono voci false. C'è sempre il narcisismo di mezzo adesso, per cui è difficile capire quanto ci siano dei valori e quanto invece ci siano delle situazioni che feriscono personalmente. Per cui non è tanto io non tradisco quanto io non devo essere tradita. Ecco, quindi se tu mi tradisci basta. Però io posso farlo. Quindi poi se capisco bene la relazione subisse un'alterazione tra le due persone. Perché se io pregio il narcisismo sulla relazione, la relazione viene, non dico a cadere, ma a perdere una qualità, una costanza, una qualità che dovrebbe avere. Sicuramente la ricerca di una relazione lunga, fissa, insomma, la ricerca dell'amore romantico è una cosa che ancora c'è e ancora pervade l'adolescente sia maschio che femmina, mi viene da dire. Questo amore romantico, arricchito da tutto quello che adesso è a disposizione degli adolescenti e non solo. Che noi non avevamo. Che noi non avevamo. Quindi Facebook, quindi messaggi, quindi i video, quindi ti mando questo, ti scrivo quello. Non è vero che questi ragazzi non scrivono, non si scrivono lettere d'amore, non è vero. Si scrivono molte frasi d'amore. È il linguaggio che è cambiato. Ma loro scrivono molto dell'amore. Quindi di fatto l'adolescente rimane sempre uguale a se stesso, cioè romantico e sognatore. Assolutamente sì. Anche se usa Facebook. Assolutamente sì. E per terminare, in questi chat, quelle ragazze che cadono nelle trame di questi personaggi che con le chat le illudono, che cosa ci vuol dire? Ma questo più che adolescenti, ormai sono pre-adolescenti quelle che più spesso cadono in queste trappole. Sono in quell'età che va dai 12, 11, 14 anni, dove a mio parere sono lasciate un po' troppo sole. Nel senso che le ragazze è giusto che utilizzino questi mezzi, che li utilizzano senza l'avvoltoio mamma e papà che controlla. Però bisogna comunque sempre avere un occhio di riguardo. E questo lo si fa dando a loro le competenze, quindi spiegando bene a loro che cosa significa dare il numero di telefono, dare un indirizzo, scrivere qualcosa di sé. Quali sono i rischi che possono occorrere? È la disinformazione che fa cadere queste ragazze in queste situazioni. A volte si tende, soprattutto con le ragazzine più piccole, a non raccontare le cose brutte che accadono, per paura di traumatizzarle, per paura di sconvolgerle. Invece purtroppo no. Invece purtroppo loro devono sapere che nel comportarsi in un certo modo si corrono determinati rischi. Secondo me questo non voler dire prenotraumatizzare è uno dei malvestri della nostra società. E ai bambini non si dice questo, non si dice quell'altro. Non si parla della morte. Invece purtroppo sono realtà della vita. Ecco, e per terminare come ultima cosa, per quanto riguarda per esempio il menarca, la prima mestruazione, c'è un cambiamento da parte delle madri che cominciano a istruire di più le figlie, a preparare di più a questo evento. Sappiamo di bambine che hanno vissuto dei drammi perché non sapevano niente. No, sappiamo, abbiamo avuto un tentativo anni fa di suicidio perché questa bambina pensava di essere ammalata quando ha avuto la prima mestruazione. Sicuramente sì, adesso non è più visto come, come dire, una cosa di cui nascondere, vergognarsi. Vengono informate, purtroppo vengono informate quando accade. Quindi la preparazione spesso non c'è. Andrebbe, secondo me, affrontato l'argomento mestruazioni non soltanto dal punto di vista organico, medico, insomma, ma anche con un significato di crescita, di maturazione, di cambiamento. Non soltanto adesso devi preoccuparti che ti servono gli assorbenti, quindi devi averli nello zaino, devi cambiarti tutte le volte, devi stare attenta perché poi si resta incinta, quando magari è una ragazzina di 12 anni, 11 anni, che questo pensiero proprio non l'ha ancora sfiorata. E invece, insomma, il sangue che una volta al mese defluisce dal proprio corpo, probabilmente andrebbe, come dire, affrontato in maniera un pochino più profonda. Sì, coscientizzato a livello psicologico. Sì, perché poi, insomma, c'è questa idea di questi giorni di non potere fare questo, non potere fare quell'altro, non puoi andare nell'acqua, non ti puoi... Sembra quasi un handicap, no? Siamo per una settimana al mese handicappate. Non è vero. Non è vero. Ma il periodo delle mestruazioni poi coincide anche con il periodo della migliore amica, no? Solitamente, come età. Per cui interviene questa complicità, no? Che tiene lontani un po' i ragazzi, perché, insomma, io so qui, che ho il mio segreto, con i miei assorbenti, i miei cotton, lo devi vedere. Allo stesso tempo, però, te li faccio intravedere, perché così capisci che io ho già le mestruazioni, quindi sono già grande. È un momento, anche dal punto di vista relazionale, della relazione con gli altri, importante. Importante, molto bello. Carissima dottoressa, la ringrazio della sua partecipazione, di tutto quello che abbiamo detto che è stata una cosa interessantissima e spero di averla di nuovo qua. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.